Siamo con il maestro Martín Alvarez, arriva da Cuba per un seminario di Krav Maga, un'arte che davvero sta prendendo sempre più piede, perché? Perché è un qualcosa che arriva da lontano. Sì, il Krav Maga, come dici tu, è una tecnica di lotta creata dall'esercito irrealiano per fornire un livello più elevato di capacità nell'arte del combattimento corpo a corpo. per rispetto ad altre discipline come il karate, il judo e il jiu-jitsu, è caratterizzato da una maggiore semplicità, meno remorse, ma molto efficace. Passione in arte per la israele defensa forse, che prevedeva mossa letale, in seguito è stata elaborata una successiva versione al uso della forza di policia, che mira neutralizzare al avversario senza ucciderlo. È la prima volta in Italia che le forze di policia ricordano a questo tipo di arte del combattimento a un tempo, solo al uso della forza speciale. e grazie all'iniziativa e all'esperimentazione presso la Federazione Italiana Krav Maga, Presidente Giuseppe Palma, siamo seguri che una volta iniziato con noi non si metterà più a combattere. Una disciplina sportiva quindi che prepara soprattutto le forze militari per interventi non cruenti. Sì, è una disciplina come dicevo prima, micidialmente, lo dico così a cuore, micidialmente terribile. Questa tua visita alla scuola del maestro Sanna prevederà sicuramente un prossimo futuro altri stage? Sì, sicuramente, sono onorato veramente. Devo dire che il maestro Sanna è un piacere qui, stare insieme a loro, anche a lui, è un piacere immenso. Grazie di cuore, sì. Sono onorato praticamente.